Musica Ciao, allora oggi come promesso sfogliamo l'album di Natale del libro Shea ebbene si è arrivato l'album di Natale allora intanto vi anticipo che faccio una carellata molto molto veloce di tutti i prodotti perché l'album è davvero lunghissimo e sarebbe un video infinito quindi vi faccio vedere quelle profumazioni, vi mostro tutto poi qui nel box informazioni c'è il link per scaricare il catalogo così tranquillamente lo guardate in formato pdf e potete scegliere con calma comunque vi ricordo che l'album è valido fino al 27 dicembre 2016 però se volete il vostro regalo sicuro entro Natale l'ordine deve essere fatto entro il 12 dicembre comunque in tutti i miei social e ovunque è scritto quindi non ci si sbaglia e ora direi inizio a sfogliarlo subito eccoci, allora come vi ho anticipato facciamo una carellata molto veloce di tutti i prodotti del catalogo di Natale iniziamo con questa edizione limitata che sappiamo è completa quindi ve le faccio vedere adesso abbiamo il latte corpo, la crema mani il latte corpo quello piccolino, il gel doccia, il latte corpo grande, il basso bolabra, il gel doccia piccolo il sapone per le mani, le toilette, il gel doccia sfogliante e li abbiamo tutti dunque, cosa dimentico, dimentico qualcosa sì, è quella qui perché è nascosta la candela profumata c'è tutto, in ogni profumazione ci sono tutti questi set questa è la profumazione pera e cacao poi abbiamo l'altra sempre con tutti i prodotti mirtillo rosso e mandorla e poi clementina e spettie vediamo ora i set più piccoli, eccoli con le varie tipi di profumazioni i cesti un pochino più grandi e i cesti completi altri cesti, sempre quelli grossi con scatole e poi c'è il cesto ed è con tutta la profumazione cocco oppure vaniglia BB cream con la solita trousse regalo make up in edizione limitata eccole qui, la palette e questo è mix di tonalità per il viso il vertige, i rossetti, la palette di rossetti o dei rossetti questi, i matitoni i set con i matitoni oppure gli ombretti con la pochettina i vari trucchi con la pochette gli smalti, sempre varie tonalità o i vari mix la palette e i vari set con i cofanetti profumazioni i vari profumi eccoli, questi sono tutti i profumi con i vari cofanetti anche questi e tutte le profumazioni infatti c'è sempre il cofanetto che normalmente ha il profumo, il gel doccia e il latte corpo di tutte le profumazioni poi dipende ovviamente eccoli, questi sono quelli delle mattino giardine i vari set eccoli, oppure ecco qui i vari cestini vuoti per personalizzare il regalo in base alle varie profumazioni quindi si può tranquillamente comporre quelli per bambini sono sempre più o meno i soliti con i peluscini che sono anche molto carini e questi sono i vari set quindi questo per i capelli oppure il shampoo con shampoo balsamo più il cestino tradizione da mamme i vari prodotti bio ed è cura per il corpo e le mani i set mani più ricche che c'è sempre il gloss più le gommage oppure quei set prodotti questi sono da uomo con la trusse da uomo ecco i profumi da uomo sempre con il set i vari set viso quindi con la trusse i vari prodotti viso delle varie linee ecco qui sempre con la trusse oppure il cofanetto di regalo molto carino e poi guardando i prezzi conviene ecco sempre con i vari regali e questo era l'ultimo allora eccoci abbiamo concluso tutto alla carrellata dell'album avete visto che sono stata velocissima ma almeno avete visto che cosa c'è le edizioni limitate le profumazioni ed è sempre vi ho già detto il link per contattarvi per le informazioni per gli ordini tranquillamente sempre il link anche per l'album ed non mi resta che augurarvi buone feste poi in anticipo ma ci saremo ed buoni acquisti naturalmente profumati con il magico attore al mondo di Brochet per l'album per l'album per l'album per l'album